I manifesti sono stati già fissi in città ma l'inaugurazione prevista per il prossimo 6 agosto potrebbe strittare. Per l'apertura dell'OASI, la nuova area commerciale che sorge al posto dell'ex Ipersidis, mancherebbero alcune autorizzazioni. Si tratta di una serie di provvedimenti finali che sarebbero necessari per permettere la messa in funzione della struttura che rischia un altro rinvio dopo quello fisiologico accusato con il lockdown. A Palazzo San Francesco c'è fibrillazione per il rilascio degli ultimi pareri che tengono con il fiato sospeso il gruppo Gabrielli che ha deciso di investire in città e il personale già reclutato che ieri con una delegazione si è recato in comune per chiedere conto dello stato dell'arte di tutte le pratiche. L'allungamento dei tempi nel rilascio delle ultime autorizzazioni sarebbe dovuto alla carenza di organico negli uffici ma ci sarebbe dell'altro. In queste ore si sta cercando di ritrovare la quadra per evadere tutte le richieste pervenute sei giorni fa e rilasciare gli ultimi pareri. Il gruppo commerciale Gabrielli che ha investito per la nuova era dell'ex Ipersidis si muove su cinque regioni con oltre 150 punti vendita. L'Ipersidis aveva chiuso Baracca e Borattini a giugno del 2009 a causa della crisi economica che ha travolto dal 2008 il gruppo Pozzolini che lo gestiva col marchio CPL Imperial 3. Su 26 dipendenti del supermercato ne erano rimasti 14 in cassa integrazione fino a dicembre 2010 perché tre erano licenziati, nove erano stati riassunti altrove fra detti reparti e cassieri. A luglio dello scorso anno cominciò la demolizione e la ricostruzione ex novo della struttura fino all'inaugurazione annunciata con tanto di manifesto per il prossimo 6 agosto. Bloccare l'apertura e farla slittare non è il massimo per chi ha deciso di investire in città in un momento non proprio roseo per l'economia locale. Il nuovo centro commerciale darà lavoro almeno a 30 persone.